Il travi che oggi andiamo a utilizzare l'abbiamo conservato su queste bobine che sono molto interessanti poi vi farò vedere anche il portabobine quando andiamo in spiaggia è inutile essere troppo pesanti e portare i 10.000 travi che portiamo noi garisti ogni volta che facciamo una gara se devo affrontare una pescata normale, rilassante, mi è sufficiente portare magari una ventina di travi diversi e con questi posso utilizzare il portatravi più piccolo della Tubertini nel cui stanno 20 bobine Che trave utilizziamo? Braccioli abbastanza lunghi perché cercheremo del pesce di galla nel sottoriva, nello specifico spigole trave 0,25 e braccioli dello 0,14 per cui leggeri ami abbastanza piccoli perché comunque andremo a mettere una coreana e quindi un amo resistente ma abbastanza piccolo